Nel 1927, nel mese di ottobre, in quello di Arco, in via Bettinazzi, assistiti da l'ostetrica, perché una volta non c'era il punto nascita, ma che era l'ostetrica, è nato lo speziale di Arco, che ha raggiunto quest'anno, nel 2017, il novantesimo anno, non li ho ancora compiuti, ma militarmente parlando, de che ansette? Nel 1927, 90. Allora una signora l'altro giorno mi ha detto, no, no, lei non ha 90 anni, ma ha 18 lustri. Ah, è il lustro? Dico, sei lo signora, è il lustro, lei dovrebbe saperlo, che è intellettuale, sì, dico, ma preferisco che al Medigay da 5 anni, e allora dico, signora, mi dispiace per lei, ma non va, però dice diverso, se dice 18 lustri, la cosa è meno pesante. Allora io ho 18 lustri, ma avevo giurato che non avrei più fatto trasmissioni, perché mi sembrava, anche su una raccomandazione di mia moglie, detta la Solandra, che devi stare attento di non essere ridicolo, perché magari, sa, alla tua età se potrei essere anche ridicolo. Dico, grazie Lucia, ti ringrazio di questo suggerimento, e allora avevo detto che i due semplizzoni, detta la Torbolana, semplizzoni, non semplizzoni, no? Quei due semplizzoni che l'è il Parisi e anche quell'altro sfruttatore del popolo, che si chiama Galas, perché credete che mi tiene la televisione per cosa? Perché così va avanti e fa qualche trasmissione, ma non certo perché sia quello che fa le trasmissioni migliori, no? E allora siamo arrivati a 90, e ho detto, basta, ma quei due lì, ma te prego, ma te prego, ma va là, e poi sono andati a sobbillare le mie donne, andai a sobbillare la Pia, poi che l'ha dita alla Gina, poi che l'ha dita alla Ada, ma va la dottor, ma il prego, allora sono ancora qua. Ma queste sono le raccomandazioni, allora quando mi ha detto, o mi hanno fatto raccomandare dalle loro mogli, dalle donne, io sono sempre stato molto sensibile per la verità, al senso femminile, anche se più giovani per la verità, ma comunque, e allora sono ancora qua. Ma visto che sei andata di raccomandazioni, mi godite a quei due, guardate signori, che le raccomandazioni hanno un'origine religiosa, e gli dice Parisi, fammi la cortesia, queste origini religiose, calgale, fai fuori a calare lì, gioco le raccomandazioni, fermi tutti che ve la spiego, ve la spiego. Quando uno ha bisogno del Padre Eterno, signori cari, si rivolge direttamente al Padre Eterno o vai dalla Madonna. Quando uno ha bisogno di qualcosa, va da Santa Rita o va direttamente al Padre Eterno? Quando ai tempi degli dèi, nevi direttamente da Giove o magari che parleva Giunone? Eh, le raccomandazioni sono nate da qua. Avete mai visto voi un sottuario dove è apparso Gesù Cristo? Neanche per idea, no? Tutte le apparizioni della Madonna, a Lourdes, a Macedova, come se c'era quel nome là del Slavo, è sempre la Madonna. E allora da qui sono nate le raccomandazioni. Perché a casa mia, per esempio, mia madre, Padre Eterno, si l'ha tenuto in costruzione, ma fino a un certo punto, vale che devo tenere giù la mano, chiedo scusa che chi la fare, Galas, va bene. Allora, come voi notate, qui c'è un piccolo microfono. Questo microfono deve essere totalmente, ma siccome io sono un po' manisco, allora da là, quel signore là, mi fa i occhi per dire che mi raccomando il microfono. Tornando a noi, quando uno aveva bisogno di qualcosa in casa Tamanini e anche in casa di mia zia, mai parlato del Padre Eterno, no? Che era sempre Sant'Antonio e Santa Rita, eh? Ah, cari miei, mancheva qualcosa, Santa Rita, dammi la mamma, che era un problema, Santa Rita, te prego, parla col Padre Eterno, fammi la grazia. E poi, io mi domando, ma che era bisogno dell'Urt, o sarebbe meglio che all'Urt che fosse solo il Padre Eterno? Secondo il mio parere, meglio sarebbe direttamente col Padre Eterno. Perché è inutile andare dalla Madonna perché lavora dal Padre Eterno, dice, senti Padre Eterno, vada che Tamanini mi pregasse per piacere te fai lavorare di più i conti, anziché di lavorare ma sa poco, vada che lavora di poco e grrrr, cos'è sta storia qua? Uno va direttamente dal Padre Eterno e gli senti Padre Eterno, hai bisogno, eh? Eh? Lo accontenti? Invece no, no. Allora le raccomandazioni hanno un'origine religiosa, per cui se tu hai bisogno di qualche cosa non devi rivolgerti direttamente al Padre Eterno, ma devi andare dal Padre Eterno e dire, vada che il Galas con Telegarde vorrebbe lavorare di più, fammi la cortesia, aiuta. E quella dice, ma chi è sto Galas lì? Ma sì, l'è quel lì, mai conosciuto, ma sì, Padre Eterno, te l'ho detto tante volte, è quel che Galas, lo studio che fa le fotografie per tutti quanti, ah, dice, va bene, sì, 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 vedrò, vedrò, vedrò. Ma no, fai la cortesia, Padre Eterno, dimmi su perché appena raccomandavo, appena stancesa, domandare, Madonna, Santissima, aiutami per piacere, intercedi. Perché la parola intercedi, fatta di due parole, inter, che nulla a che fare con la cosa di calcio, non credo che l'inter venga da questa parola, entra e poi cedere, che vuol dire andare avanti, entrare, entrare. Allora, la parola intercedere è la Madonna che cerca di intercedere, cioè di entrare dal Padre Eterno e persuadere il Padre Eterno che il Galas faccia più trasmissioni e più interviste, ma io non sono d'accordo su questo. E qui, secondo il mio parere, la religione ha sbagliato perché tutti questi Santi, Madonne che interviene, che fa, ha instaurato nel nostro Paese, particolarmente, direi, portato a questo genere di modo di vivere, per cui le raccomandazioni hanno un'origine particolarmente religiosa. Ma vorrei finire con una cosa un pochettino che ha un po' a che fare con la religione. Perché siccome tutti dicono che faccio trasmissioni piuttosto negative, cioè che metto in evidenza solamente le cose che vanno male, eccetera, eccetera, vi racconterò una storiella che ho visto in uno spettacolo della Comte, quella che voi vedete qualche volta alla televisione o l'avete sentita, che fa quelle trasmissioni in dialetto trentino molto simpatiche. Allora il Padre Eterno crea gli animali. Però c'è tre contestazioni. Una la giraffa, chiede colloquio al Padre Eterno, non tramite la raccomandazione della Madonna, ma questa la va direttamente, senti Padre Eterno, mamma mia, mamma mia, sto col così lungo. E tutti gli altri li vedo sotto, tutti i baci, l'unica col col così alto, per cortesia, lei mi sto con, ma no, non si parla di ancora, il collo così lungo ti permette di prendere i fiori alti, ti permette di prendere i frutti più alti che sono quelli che maturano prima, eccetera, eccetera. Ti permette di chinarti anche andare in basso e prendere l'acqua in basso e permette anche di vedere se il leon è il ven prima degli altri, perché gli altri più bassi, noi lo vedete, ti sei alta e ti vedi se vieni il leon. Allora la giraffa, insomma, sembra anche persuasione, va bene, mi sembra che tu abbia ragione, va bene, ci mettei nel collo lungo e vado via. Arriva l'elefante, ma non aveva l'altro a fare con queste d'orecce qua che tu ti merite fuori con le recce con sto nasno, beh allora, ma no, ma benedetto, le recce, pensate che con le recce ti copi le mosche, ti cagli mosche che dà fastidio, pom, more le mosche. E poi le orecchie così grandi permettono la circolazione del sangue migliore, una bestia come ti se non aveva le recce così grandi che aveva problemi di circolazione, ma neanche parlarne, no, no, credimi, poi senti molto meglio, se ti giri, te senti anche se vieni animali diversi, eccetera, e poi la proboscide, quella lunga, sto dato, allora, l'ho fatta apposta perché te puoi bere l'acqua da basso, te puoi narratore i frutti alti come la giraffa, te puoi a un certo momento ciappare l'acqua, spruzzargliela in faccia qualche dunque, te rompe le scatole, guarda, credimi, è stata una soluzione ottima. Ma parli, sì, sì, vabbè, vabbè, te disi ti, padre eterno, morta notte. Arriva la galina, qui, 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 che, arriva la galina, e ti dis, cosa, ah, dis caro padre eterno, mi non te me incanti mica come quegli altri due, come con quegli altri due, cosa, no, 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 te che canto su molto le cose, se ne vi accontenti, mi niente da fare, i casi sono due, o te fai gli ovi più piccoli, o te me slarghi il bus, punto e basta. Alla prossima. Grazie a tutti